Vedi, sei poco fiducioso in Steph Mamma mia, sei proprio bravo Siamo soltanto in quattro, dimmi quando ti può capitare di essere solo in quattro È una roba assurda comunque, è un match di Fortnite dove siamo solo in quattro È strano, molto strano Ti sta già venendo l'ansia Anche a me Allora, secondo me dobbiamo fare qualcosa Decidiamoci una regola Una regola per riportare in auge il fatto di maschi contro femmine prima di tutto Allora, secondo me il team dei maschi deve usare armi brutali, no? Maschie Invece il team delle femmine deve usare armi un po' più delicate Tipo il cecchino è un'arma da femmina, secondo me E anche armi silenziate contro fucili a pompa e basta Bravo Ok Pompa sono maschili i fucili a pompa Eh, esatto Quindi io e Ferre dobbiamo prendere pompa e voi potete avere cecchini e armi silenziate M4 cosa viene più sinerato? È neutro, neutro, secondo me Vabbè, vabbè In che città andiamo? Ragazzi, è andato un po' male perché il pompa è buono Dove andiamo? Corso commercio Troppo avanti Corso commercio Ce l'abbiamo qua, andiamo qua, andiamo qua Ok Quindi Ma dureranno poco queste partite però Sì, dureranno poco Io mi nascondo molto Io mi nascondo molto Eh sì Eh sì, non possiamo uscire in nessun modo dalla città Però puoi restare nascosto quanto tempo vuoi? Secondo me Eh, in effetti È giusto così Ok, non si può uscire dalla città, ricordiamo Esatto, mai e poi mai Neanche se arrivano le bombe, ok? Ok, benissimo Allora Non arrivano le bombe Ci dividiamo? Sì Ciao, a dopo Ciao A dopo Ok, Fere Dove sei? Io li ho visti, sono nati molto in fondo nella città Ok Allora, quindi ricordati, noi possiamo usare soltanto armi possenti e che fanno rumore Ok Quindi minigun, M16 perché è neutro, dopodiché fucili a pompa e cos'è del genere Ok Allora io ho trovato tutto nel fucile a pompa Io ho trovato un M16 Anche io Verde Ok Quindi comunque va bene Io bianco Ok Allora, vediamo in questa cest Anche se tanto sapevo già che non poto trovare il pompa perché il pompa nelle cest non c'è E cerco di rivicinirmi a te perché sono più vicino a loro che a te in questo momento Di buono Eh, anche io vorrei stare vicino a te Di buono però c'è che noi sappiamo dove sono e loro secondo me non sanno dove siamo noi Dici, dici Per ora mi sa di sì Eccomi Allora, facciamo tutte le case Ok? Sì, aspetta, ti raggiungo e poi andiamo Questa l'ho appena fatta io Quindi la facciamo Allora, tu fai quella di mattoni tutto in fondo e io faccio questa mezza ruota qui? Eh, sì, siamo sicuri che non ci siano in questa zona Sì, farei sono al centri commerciali loro Ah, ok Ok Quindi faccio questi mattoni, ok, perfetto Esatto Ho un'ansia Ci credo che ho un'ansia Vero? Anche perché, cioè, di solito se ti aspetti tanti player ti guardi molto più intorno Quando sono solo due Ti viene da dire, ah, vabbè, non c'è nessuno, poi ti arrivano alle spalle Un fucile d'assalto comirino, cosa viene considerato? Secondo me è sempre neutro Ok, li consideriamo Anzi, no, forse è un po' più stelto No, 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 quello non lo puoi usare, è troppo steltino Allora lo butto, dai, non lo prendo neanche, lo butto Ok, ok, ok Io ancora nulla, eh Ancora niente pompa, non ci posso creare Dimmi te se deve capitare un game Comunque abbiamo avuto la fortuna, infatti, che ci capitasse a noi il fucile a pompa Che comunque apporte Grazie al fatto della tua mascolinità Grazie al fatto, aspetta, mi è sfuggita la metà Della tua mascolinità, Fede, che quindi siamo stati noi il team maschio No, ma quello è vero, io non lo volevo dire prima Ma perché stai in live, ti sentono tutti, però Sì, perché noi stiamo registrando questo video È una roba particolessima Mentre Lion è in live, in diretto in questo momento È una roba stra strana Vogliamo tenerlo nascosto magari a chi non mi conosce Solo noi facciamo questi esperimenti E pensa che sono una brava ragazza, capisci, Steph, capisci Nessuno O io non lo trovo, Steph, non so che dirti Io l'ho trovato A fregno 2 Ok Stavo andando nel soffitto nella speranza di trovare qualcosa di utile Infatti lì c'è la chest Ok Faccio così Voglio anche questa Io ho pochissimi materiali E contando che abbiamo delle armi che un po' ci obbligano ad andare addosso I materiali erano abbastanza importanti a trovare Sì, sì, sì Riusciamo a ritrovarci così, ti do il pompa? Eh, sì Ok Dove sei? Uh, sei molto lontano però Un po' di ansia Allora, quelli c'era una pistola ma non la prendo Dove saranno? Non lo so Però siamo vicini, Steph Perché se mi attaccano in due Cioè a me mi fanno pigliare un infarto Ma totalmente Ok Quindi io posso usare soltanto il pompa e l'altro La mitraglietta ce l'ho solo perché, boh Perché tanto non la posso usare No, io ho, guarda, ho l'M16 E il fucile a pompa Ed è le bende, basta, non ho altro Eri tu, stu l'auto? Sì Ok Andiamo, eh Ma andiamo? Sì, sì, sì È ora, secondo me, di iniziare il comportamento È il momento agguato È il momento agguato Sì, 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 sì Ok Andiamo Ssh Sono in questa casa Questa casa Stai accomacciata Ci avranno sentiti? Lo sapranno, lo sapranno Non lo so perché Che ansia Stiamo camminando molto piano adesso O mi fa più ansia dei game normali Ma ti sembra? Saliamo su, urliamo? Sì Pronta? Vai Siamo Ok, l'ho colpito due volte a Lion A Lion? Sì Oh Ma che si arrabbia Lo so Ok Ok È uscito? È uscito, è uscito, è uscito, secondo me Uh, hanno provato a spararmi Una giù Ma povero Lion Ok Ok Però dai, è una cattiveria con i pompa Sì Ma è stato lui a determinarlo Aspetta che glielo andiamo a dire Sì, ma Comunque Hai fatto tu una regola che rendeva troppo sontaggioso per voi Dai, era troppo forte avere il fucile a pompa Ho sentito un passo e vi ho fatto cosa No, anche noi eravamo lì Ma dai Oh, dobbiamo sapere se arrivano Dobbiamo sapere se arrivano Non abbiamo saputo se arrivavate Allora Adesso pensa a una regola che è un pochettino più equilibrata Perché pompa contro una pompa Ma non possiamo mescolare un po' il team Eh, ma come facciamo a commentare poi? È quello Facciamo una roba più Più particolare Tipo facciamo questa Senti questa qua è bella Dimmi Possiamo aprire tutti una sola chest Ok Questo è totalmente casuale Allora Senza raccogliere nient'altro Fino a quando non apriamo la chest Possiamo aprire tutto Cioè possiamo prendere tutta la terra Appena prendiamo la chest Finito, dobbiamo fettare Ok No, no, no Io te la complico ancora Vai Niente da terra, solo una chest Possiamo aprire solo una chest E non raccogliere nessuno Sì No, il gruppo non è riuscito a connessere Ah, devi rifarlo forse Definiamo i colpi Picone Eh sì Ok Mi piace A me piace A me piace Oh mio dio Ragazzi Io voglio sapere nei commenti Se vi piace vedere questo genere di sfide Perché nel caso noi siamo volentieri propensi a farveni altre live E altri video così Quindi fatecelo sapere Io parto a piccone secco Se ci troviamo Prima di tutto Facciamo un boschetto Secondo me può essere carino per una sfida simile Vabbè Aspetta, boschetto quale? Boschetto bisunto Sì Va bene Ok Perché c'era anche Borg Secondo me è anche troppo boschetto Eh, forse era grandino Una cassa Però va bene Vabbè, ormai andiamo lì Ciao, a dopo Ciao Channel switch User join your channel Ok, fare in una sfida del genere Ovviamente Vai, tutto a fortuna Cioè, ci sono quelle chest in cui Se le apri trovi ancora una balestra Che ci fai con una balestra? Pensate a Poker Face se trovi l'RPG Oh mamma Quindi, due contro due Una sola chest Non si può prendere nulla Neanche da terra Soltanto eventualmente Gli scillini si si trovano E vedremo come andrà Dove andiamo, Steph? Beh, io vado a prendermi una chest A caso, Ferre Devo essere sincera Allora, io spero di trovare Quella dentro il burger Ma non c'è neanche bisogno Di andare lì Ferre, c'è l'ion lì C'è l'ion lì Vira, vira, vira Io sto andando qui Mi vedi? Vieni verso di me Sì Ok, perché tanto io qua Mi ricordo che c'è sempre il gazebo Dove ce n'è una E allora io vado nella casa Io mi apro questa E vediamo cosa trovo Ah, ma c'è un medikit Lo potrò prendere? No No, dai, non lo prendo No, 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 no Abbiamo detto solo gli scillini Quindi solo gli scillini Ok, Ferre Io ho la mia arma Io non ho niente, Steph Mitra Niente Trovami una cesta, aiutami Secondo me in questa casa non c'è Capito? Non so neanche se posso prendere materiali Poi ho questo dubbio Ah, non c'è No, aspetta Forse la sento Qualche tetto più basso, forse Anche perché se poi mi iniziano Sì, io la sento Quindi è qua Sì, è in quello Ok, perfetto, dai Dimmi che ti va meglio a te, Ferre Cos'hai trovato? Un MSN ci può andar bene No Un po' fucile Eh, vabbè, vabbè, vabbè Ho trovato anche uno shield grande Non so se è valido Sì, sì, quello lo puoi usare Tutto quello che c'è nella cesta Lo puoi usare Ok, ok Poi da terra puoi prendere solo gli scillini Se li trovi Ok, allora me lo tiro subito questo Aspetta No, no Hai già sentito? No, speravo ci fosse colonna Avranno trovato la cesta? Eh, sì Perché l'ion, lo vedo È al burger E quindi io pensavo Anna sarà andata qui E invece no Anna non so dove è andata Anna non l'ho vista dove è andata Non l'ho vista, sinceramente Ho visto l'ion Nella zona del burger Che si continuava a muovere Lo vedi? Sì Sta correndo Aspettiamo, stiamo nascosti Ok Noi lo guardiamo e lui non ci vede Molto divertente Ok Cosa starà facendo? Non ho visto che tipo di fucile ha Sarebbe stato utile scoprirlo Eh, sì Sarebbe stato un'ottima Secondo me però aveva il fucile da caccia Informazione No Vieni, vieni, vieni Sì, nel caso ha avuto una figa Che brutto Sai, quello è proprio brutto Però non sappiamo cosa ha Anna Magari Anna ha l'RPG Magari Anna ha trovato la bell'arma Ti rendi conto come ci stiamo muovendo? Che vergogna Ok Ok In che casa saranno andati i furfanti? Ma io non vedo Anna Anna è ben nascosta Aspetta Ma loro sono qua dentro Guardalo, guardalo l'ion Vabbè È lì davanti, lì davanti Da questa parte dove c'è quel gazebbino Vedi? Sta andando verso la casa che abbiamo fatto noi Ah, ok Però vedo sempre Ah no, ecco C'è Anna dietro di lui Ok, si sono riuniti Andiamo? Andiamo Ti viene un infarto? Lo siamo cazzo Proprio che urlano, eh Adesso in live Secondo me avrà urlato Pronta? Dici? Ma dov'è? Sono entrati in casa a vedere se ci siamo Stai qua Stai qua Stai qua Stai qua Si sentono però audaci Quindi potrebbero avere Roba bella Li ho visti nelle scale Sono in quella casa Sono in quella casa Ok però Anna mi è sembrata un fucile Ok, pronta? Sì Pistola silenziata per Lion Che cattivi Ma possiamo costruire? Beh sì I 30 materiali Quanto meno valgono Sono ben nascosto Dietro il camper Stef Ok Ah no Delle granate Credo Ah Mi spara Lion Ok Lion A terra Ho colpito Oddio 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 No Li è andate a peggio che a noi Ma cosa hanno trovato? Fammi vedere Ma come fate ad avere più sfiga di noi? Io ho trovato 16 colpi di quella pistola silenziata Ma voi cosa avevate? Io avevo la mitraglietta Quella silenziata Quella brutta Bianca Io ho trovato Il vampa a fucile Io il vampa a fucile Anna Il fucile bianco Il vampa a fucile anche tu Era Fer e Anna con la stessa arma Il vampa a fucile bianco Comunque io a te ti stavo per ammazzare Sì Avevo usato soltanto i 30 materiali della cesta E sono stato onestissimo Io non lo so Io sono passato un po' sopra il legno Senza farlo apposta Ma tanto non ne ho usato No vabbè sì Il problema è che avevo pochissimi colpi di quella mitraglietta danna Eh sì Ho venduto male La cesta è singola Era quello all'estremo infatti eh